Buongiorno, sono Carlo Radelli di SCM, la società si occupa di system integrator, noi siamo di system integrator, di sistemi audio, video, videoconferenze e controllo, quindi il nostro lavoro è quello di prendere i vari oggetti che il mercato ci mette a disposizione, di integrarli, progettare la realizzazione di una nuova sala, quindi di integrarli tra di loro, farli funzionare correttamente, installarli dando un buon servizio sia di installazione che di post vendita, quindi manutenzione sugli impianti. Questo evento l'abbiamo accolto con entusiasmo, abbiamo notato una buona partecipazione del pubblico e abbiamo rilevato un buon numero di persone interessate direttamente ai nostri prodotti, quindi un bilancio sicuramente positivo per questo primo evento SIEC. Come punto di vista della certificazione della professione? È un argomento sicuramente fondamentale che ci porta a un traguardo che è decisamente auspicabile per tutti i partecipanti attivi di questa associazione e noi stessi ci occorriamo come si sente e credo che questo passo sia di prossima realizzazione.